Come far innamorare gli uomini secondo la scienza, cara malgassona, ecco qua che devi scoprire come far innamorare gli uomini secondo la scienza, cara ampana di una malgassona. Allora, cerchiamo di capire quello che devi fare, che tanto poi non lo fai perché, ma io lo amo, vabbè comunque io te lo dico, poi fai come cavolo credi, malgassona, vuoi fare la vacca o vuoi fare la tigre, scegli tu. Allora, prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ci sono ben 4 livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base per partecipare ai miei seminari online, adesso facciamo quello della PNL con meno di 10 euro al mese, malgassona di una carampana, potrai fare il corso di PNL Practitioner e quindi, insomma, è un corso di PNL che se vai a vedere da qualunque parte pagherai almeno 100 volte tanto, talvolta migliaia di euro e qua con meno di 10 euro al mese puoi farlo. Vedi tu, malgassona di una carampana. Poi c'è l'abbonamento top che in più ha delle videoregistrazioni di seminari del vivo e l'abbonamento Master Consulting che in più ha, diciamo così, una Master Consulting, consulenza telefonica. Ma adesso veniamo al tema, come fare innamorare di uomini, malgassona di una carampana, secondo la scienza. Allora, ficcati in testa questi concetti e poi smettila intanto di dire, ma io lo amo, io lo amo, perché se dici io lo amo, io lo amo e poi fai chi cavolo vuoi, lo tempesti di messaggi, vieni presa dalla messaggita acuta e verrai trattata come una vacca, non come una tigre, perché la tigre non importa niente di quello che pensa la vacca. Allora, devi tenere presente che la scienza ci informa che il nostro cervello, anche il tuo e il cervello in generale delle persone, è triadico, cioè ha tre parti fondamentali. C'è la parte, potremmo definire la rettiliana, che non significa i rettiliani quelli, poi lì è un altro film. La parte rettiliana del cervello è quella che condividiamo con i rettili fondamentalmente, ed è la parte del midollo allungato e dell'erina encefalo. Poi c'è la parte mammagliana, cioè dei mammiferi, amigdala, ipotalama, eccetera, e poi c'è la parte, la neocorteccia, che è quella prevalentemente umana. Anche alcuni mammiferi hanno ovviamente una neocorteccia, ma molto più limitata di quella degli esseri umani, la neocortex, è quella che ci rende umani, diciamo, resi umani attraverso la genetica. Comunque, queste tre sfere, diciamo, hanno le loro esigenze. Purtroppo non sono integrate queste esigenze, quindi tu se vuoi sedere un uomo, devi tenere presente di queste tre esigenze e devi soddisfarle tutte e tre. Cara, cara, un pane di una malgacciona! E adesso ti spiego perché te sbagli. Allora, detti in altri termini, la parte, la neocorteccia, la parte istintiva, il rinencefalo, è per la parte sessuale, gli interessa a ciulare. All'essere umano, al maschio, interessa a ciulare, perché attraverso il ciulamento, diciamo, può, diciamo, diffondere il suo patrimonio genetico, può diffonderlo. Quindi più ciula meglio è, per la parte istintiva. Quindi istintivamente l'essere umano maschio, perlomeno, ma anche femmina, però questo è un altro film, ne parlerò magari in un altro video, gli interessa inficarlo in più posti che può, per, diciamo, ottenere, massimizzare. Questo è l'istinto, non è che la parte istintiva sa che la carampana oramai in menopausa, non può dare figli, oppure che sta usando arti concezionali, eccetera, eccetera. No, l'istinto sa che facendo quello si riproduce, ma non è che lo sa attraverso un ragionamento logico. È quello che hanno anche gli animali, i cani e i gatti, non è che ragionano, adesso faccio sesso, vediamo, devo stare attento, vedere un po'. No, loro fanno perché l'istinto li porta lì. Non è che fanno un ragionamento logico sul perché si accoppiano, perché non si accoppiano. Manco sanno probabilmente che dall'accoppiamento nasce, si resta incinti. Manco, forse i nostri progenitori primitivi lo sapevano, no? Perché oggi ciulavi e domani non succedeva niente, ci volevano dei mesi prima che vedere dei risultati, no? Quindi non è detto, però l'istinto ti spinge a far quello. Quindi l'istinto del maschio più ciula meglio è perché più possibilità di fecondare donne, più possibilità di diffondere un patrimonio genetico. Poi c'è la sfera emotiva e quindi tu devi dare, innescare questo, no? Perché poi il processo di ciulamento, come negli animali, diciamo, si innesca dal calore fondamentalmente. Nel maschio questo calore, tra virgolette, viene innescato da stimoli visivi, quindi devi, prevalentemente visivi, poi ci sono anche olfattivi, tattili gustativi, eccetera, eccetera. Però l'aspetto visivo è quello innescante, quello innescante. Quindi se vuoi farli innamorare, la prima cosa devi innescare questo processo, quindi devi coltivare la tua femminilità. È molto importante quindi che vai a coltivare la sta femminilità, malgacciona di una carampana che non sei altro, per i maschi etero ovviamente. Poi c'è la sfera, diciamo, emotiva. La sfera emotiva è quella legata al, diciamo, è quella legata al cervello mammagliano e questa ha bisogno di emozioni, quindi al maschio devi fargli provare delle emozioni e devi fargli provare emozioni affinché inneschi l'innamoramento. Le emozioni, cara, malgacciona, nascono da sette serbatoi, poi ce ne sono anche altre. Tieni presente che la parte emotiva non distingue tra bene e male, non distingue tra piacere e sofferenza. Quindi tu puoi usare diversi metodi per far provare emozioni, cara, malgacciona di una carampana. Però devi far vivere fondamentalmente un po' di abbandono, un po' di rifiuto, devi far vivere un po' di disistima, alcuni vanno condizionati, altri vanno giudicati, un po' di rifiuto ci va sempre, un po' di vergogna devi farla vivere. Insomma, devi stimolare le emozioni, quindi andare a capire anche a livello emotivo quali sono le fantasie, perché ogni maschio, diciamo, ha delle sue fantasie, dei feticismi. L'abilità vera, malgacciona della seduzione è quella. Per fare questo devi essere in grado di non essere tu innamorata, perché tieni presente questo, che se tu sei innamorata avrai le fettine di prosciutto sugli occhi e non capirai una mazza. Quindi devi imparare a gestire le tue emozioni. Vatti a vedere i video dove parlavo di gestione delle emozioni, malgacciona di una carampana e rispetta la tua dignità e non venire zerbinata in tutti i modi. Questo è importante, perché se tu ti lasci prendere le tue emozioni e allora inizierai a dire, ma io lo amo, io lo amo, io lo voglio a tutti i costi. Ma cosa vuoi a tutti i costi? Devi dare solo la tua presenza a persone che ti danno emotività. E poi c'è la parte logica. La parte logica sembra quella minoritaria, ma in realtà non è così minoritaria, soprattutto nei maschi iperlogici. È quella che può decidere questa donna va bene o questa donna va male, soprattutto è quella che può decidere questa donna è solo da ciulare, oppure questa donna è anche da avere una relazione stabile. E questo, per farlo, cara malgacciona di una carampana, devi tenere presente che la tua, come dire, la sfera logico-razionale non devi presentarti come problematica, perché se inizia a parlare di problemi, inizia a dire, ma io ho problemi economici perché mi hanno licenziata, non riesco a trovare lavoro, faccio qua, faccio là, sono una povera disgraziata. Certo, qualcuno magari per pietà, diciamo, oppure ci sono magari persone che hanno questa caratteristica ma sono una minoranza. La maggior parte, da un punto di vista logico, ti toglierà dai maroni. Oppure se dici, eh, ho problemi, l'ex marito non mi passa gli alimenti, i figli si drogano, che ne so, c'ho questo, c'ho quello, c'ho lo sfratto esecutivo, non lo so, sono tutte queste cose, belle cose qua. È ovvio che le allontani, perché la parte logica, tieni presente questa regola, non vuole rotture di maroni. Quindi se tu ti presenti come una rottura di maroni, non ti vuole. Se tu ti presenti come bisognosa, non ti vuole né la parte logica, perché non gli affiga niente avere una rompicoglioni bisognosa, né agganci la parte emotiva, perché non gli dai emozioni, e la parte istintiva tutt'al più lo ficca e basta. E questo è, no? Quindi devi sapere gestire queste cose. Ora, gestisci queste aree, margassona, e vedrai che lo farai innamorare. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, cara margassona. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento, abbonamento live, meno di un euro al mese, cioè un euro al mese è qualcosa, vatti a abbonare. Ti parteciperai a live interessanti, poi c'è l'abbonamento base, che non puoi perdertelo veramente, perché oltre alle live hai anche il corso di PNL, che è veramente practitioner. E poi c'è l'abbonamento top, che in più videoregistrazione del seminario del vivo, l'abbonamento Master Consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!